bene riprendiamo il nostro cubo di stagno di cui abbiamo appena calcolato la massa per fare quello che è il problema forse più difficile perché introduce una cosa completamente nuova cioè questo contare gli atomi noi conosciamo il peso la massa anzi di tutto il cubo che è di 113,5 grammi e vogliamo sapere quanti sono gli atomi che tutti messi insieme fanno questi 113,5 grammi è chiaro che dobbiamo conoscere il peso di un atomo di un singolo atomo come dice qui andiamo a trovare la massa del singolo atomo nella tavola periodica il problema è che questo singolo atomo che troviamo nella tavola periodica ha una massa troviamo scritto sotto al simbolo dell'elemento in rosso troviamo 100 per lo stagno simbolo dello stagno sn troviamo 118,71 cioè è come se il singolo atomo pesasse più di tutto il cubo è abbastanza difficile perché il cubo pesa un etto e un atomo non può pesare più di un etto quindi infatti queste sono delle unità molto piccole che cosa dobbiamo sapere su queste unità prima di andare a pensare all'operazione matematica da fare è che queste unità sono talmente piccole che per fare un grammo partendo da queste unità quindi ne prendiamo una sola una sola di queste unità che si ripete per 118 volte nell'atomo di stagno però noi ne prendiamo una e la vogliamo ripetere tante volte fino ad arrivare ad un grammo quante volte la dobbiamo ripetere per fare un grammo la dobbiamo ripetere per ben 600 2000 e 214 066 076 e questi sono poi milioni quindi mettiamo 60 di miliardi e quindi mettiamo altri 90 e speriamo che c'entrino eccolo qua questo numero è esattamente il numero di unità che messe insieme fanno un grammo e siccome il nostro atomo di stagno ne pesa 118,71 di queste unità è chiaro che questo numero di atomi di stagno questo numero che viene chiamato numero di avogadro scriviamo n a avogadro numero di avogadro dal nome dello scienziato italiano torinese avogadro questo numero di avogadro di atomi di stagno sono quelli che stanno per abbreviare in una mole ecco qua l'unità di misura che è simbolizzata mol e che tutta intera si scrive mole che è un modo molto più rapido per dire questo gruppo di atomi così grande quindi in sostanza se noi vogliamo trovare il numero di atomi in mole e non in moli cioè e non il numero di atomi contati uno ad uno il calcolo sarà estremamente semplice perché noi non dovremmo fare altro che prendere il peso la massa di tutto il cubo che 113,5 grammi e per vedere quante volte c'entra questo gruppo di atomi sapendo che questo gruppo di atomi se si tratta di atomi di quindi un atomo di stagno sono 118 118,71 unità ripetute per questo numero di volte ci deve dare chiaramente 118,71 grammi questa quindi è la massa di massa di una mole massa di una mole cioè di un numero di avogadro di atomi di uno mole di atomi di stagno chiaramente ci sono atomi più pesanti e la loro mole quel numero fisso appunto questo numero di avogato il numero fisso una mole di atomi di qualcos'altro sarà più pesante o più leggera di quella di stagno quella di stagno pesa in grammi come so come è la massa in unità che troviamo sulla tavola periodica quindi non dobbiamo fare altro che dividere per vedere quante volte c'entra questa massa di una mole dividiamo questo qui per i grammi di una mole in modo che in questa maniera abbiamo introdotto un altro concetto 118,71 grammi sono la massa di una mole mentre 118,71 grammi alla mole non è più la massa di una mole perché non è più massa è diventata un'altra grandezza una grandezza unitaria vediamo che un rapporto che viene chiamata massa molare stiamo parlando praticamente sempre della stessa cosa complichiamo solo le parole però è una cosa diversa la massa molare è 118,71 grammi alla mole la massa di una mole 118,71 grammi la massa di due moli sarà 237,42 grammi e così via ma è sempre massa questa è in grammi quindi è massa la massa molare quella che dobbiamo mettere in questo rapporto che ci dà il numero di atomi di stagno che è dato da questa semplice divisione prendiamo la massa di tutti gli atomi dividiamo per la massa unitaria è quello che otteniamo è 0, prendiamo tre cifre significative perché tante ne avevamo 0,956 atomi contati per moli quindi 0,956 moli e questo quindi è il risultato quindi non abbiamo meno di un atomo ma abbiamo poco meno di una mole di atomi e quindi non sono pochi perché sono se intorno a 600 mila 600 qui mila miliardi questi 99 cifre di miliardi stiamo intorno a 602 mila miliardi di miliardi e questo è tutto